bella a tutti ragazzi che ck e oggi un bel video su fortnite in compagnia di peppe lollo quella bella che allora non c'è niente qui ho trovato solo colpi che non vince la vista ho trovato solo colmi 3 2 6 di tritano dice il mondo ragazzo un r per voi ok beviamo qua serve a me perchè in questa casa non ho trovato neanche un'arma troppo solo colpi e andiamo indigilato io privi a giudizio però bello guarda che c'è un baule o r verdi anche per essere la scipola normale aspetta la pozzetta prendila tu dove stava il baule il camion ok ok comunque riporto un po' un po' anche se vi serve va bene non funziona bisogna costruire ma siamo se è stato aperto perché sono ancora ma non mi è stato aperto è un bug tieni eh tieni comunque le armi guarda tenete le armi questa una bella no io sto a posto adesso Gesù ah puoi aspettare il F7 no io non ce l'ho credo io ah è spettato va al qua al deposito ma prendiamo un altro fucile a pompa non si sa mai potrebbe rilevarsi utile guarda che non l'ho disarata no ci permette dove sta se venga ragazzi siamo abbastanza lontanini diciamo non andiamo a correre avviamoci da adesso oh raga raga aspetta oh raga persone di fronte sud est stanno distruggendo spacchiamoli ragazzi sono in due vabbè due terra terra anche questo due terra sono perfetto uno sono l'altro questo è gli amicchietti perfetto bella raga che ladro sei proprio un ladro ho niente visto quanto legno avevano questi ma donna un botto immagino cioè c'è un 999 di legno ma che cazzo è qua sopra ok raga comunque manca cioè non erano solo ci mancano di no vabbè evidentemente gli altri due li avevano ucciso c'è un altro palegnamento evidentemente altri due evidentemente hanno fatto uno scontro con qualcuno e sono morti i due e hanno preso un sacco di legno oh eppure stanno qua vicino agli altri no 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 non si spiega se no vediamo un po' qua cosa c'è che vi serve oh spalla chi è l'olò dov'è davanti che spalla davanti 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 bravo l'olò aspetta guardo attorno ancora ci sono gli amici no è morto subito questo sarà l'amico degli altri tre c'è l'altro due che ci boh non lo so andiamo quanto bello dai amici avanti amici avanti amici avanti a me li vedo li vedo 160 stanno andando verso 195 verso sud verso sud stanno andando si 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 cazzo la siri no qua sono sti cazzi monta stanno combattendo loro fermi 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 stanno nel campo nel campo stanno la stanno attraversando stanno uscendo no non è vero raga sono in tre ci sparano ci hanno visto ci hanno visto ci hanno visto destra destra mandiamo in safe di io eh lo so non so pompa io scappo scappa scappa la mia finzi finzi merda eh ragazzi ho preso ok ce li ho due ce li ho tutti a tre raga uno a terra uno a terra lascia 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 li va scappa 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 sono in quattro sono in quattro sono in quattro vabbè mi sta invescata terra un altro in fondo spalla non capisco a dove atterra l'altro ho ucciso l'altro c'è uno scaroro c'è uno scaroro c'è uno scaroro c'è uno scaroro qua c'è uno scaroro qua c'è uno bella dove dove vieni qua 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 dove sei prendi io un inchiaio oh bello pulito giusto per te dai grazie grazie eh provi a ti dammi delle bende c'è uno bende da ritarre no io sto non so io non ne ho avete colpi ti lancerà alzi per caso no tieni ti ho in quattro qua grazie qua cosa sa di viola perfetto raga buono bella mi è piaciuta questa scusa oh raga raga qui in questa casa a 2.40 e dentro ho le offeriti due un botto ragazzi un botto le offeriti uno sicuro un sacco l'ho ferito no c'è un pazzo presi 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 ottimo c'è uno scaranchio cazzo oh aspetta 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 stanna si se mi si sca fuori ce i garghi ce li farò anche dai dai dico 100 con i mur un bel cecchino me lo prendo io raga no dove dopo la casa sarà questo prezzo avete colpi del cecchino sì otto dammi scusa ma se sta io a prenderla fatto se lo ha il falocio no non lo crede dal volta che ho preso il falo non accresa il fatto di farelo bella ragazzi tu senti tutto tancini 4.5 ma non posso prendere sonnano le cose stare affetti mi convocco non fare un po per 30 gitaca e' ancora le pozzette è nostra quale capitina e' una grande per le falko il quale chi ha preso il falò ha preso il falò ma nienti nienti niente il filo consigliere posate che ha preso alla vera che è inutile che vengo questo a posto di tutto comunque si rega però metti sto cosa stai costruendo su c'è una costruzione bassi entriamo che cazzo sono un bello epico ragazzi io per questo perché sono nato in serie se farò comunque entrati in gesto tipo di due strumenti tra il campo di tra i cinque slot di design dovrò andorci no si è spent c'è una forza che ho trovato la forza ma è comunque sta regala che fa una costruzione a 240 che è enorme abbiamo poi dei nemici a nord ovest c'è l'altro io tutti i due kit c'è lo spazio non è sempre buona raga entriamo e facciamo una costruzione da signore si stanno sparando nord ovest la fortezza immensa la facciamo qui l'asta facciamola sopra sta casa ragazzi si ma sopra la casa attenzione ti guardano quelli nella fortezza facciamola sopra sta casa naturalmente non dire di farla come abbiamo capito di amici qua per tutto ci dice ciò solo si amare così va bene allora stiamo sarà dentro casa allora siamo in casa stiamo giù ce l'avete le trappole riga no io no oggi se rimane qua vieni con noi vieni con noi rimani qua fallis no si è fatto sconare morto morto ucciso perché a dove dimmi le coordinate nella torre o ci sono nella torre dove torre hanno la vista 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 aspetta che c'è il cecchino c'è il 100 cammino rivedo l'accento però lì potrei mi potrei colpire bene vediamo faccio scannare un altro posto anche qua non c'è possibile merda merda lì gente ma come si è venuti qua vado a cambiare comunque vedete qua vicino occhio ve lo dico avete delle trappole per sbaglio per caso per fortuna li metti sotto in casa qua comunque c'è gente qua sotto a nord ovest stravicina tipo e non ho proprio c'è ci stavano cecchino aspetta aspetta rio ti ha tre volte però c'è un altro pozzetto butta thanks no ok vedo il fortino a 330 se volete gli sparo col cecchino ma spero aspetta aspetta non stanno insieme no giusto giusto sono sul tetto sopra occhio beh comunque ditemi voi quando li posso hittare col cecchino li stanno muovendo eh adesso sta, adesso stanno scappando si come terra lascio pure perfetto aspetta che lo hitto col cecchino lascio ah ci lascio assume Vabbè si mi fa Oh sinistra sinistra L'altro fortino è in fondo E' sceso è sceso Sta a 300 raga Ok morto Perfetto Ok credo che abbiamo solamente No raga vedete il fortino Mi si sta costruendo Beh io li cecchino un botto Lo vedo lo vedo aspetta 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 Ma valla che fa No che è successo Perché non ti muore Merda raga No non ti affaccia No no entriamo però entriamo In casa L'altro Che c'è Allora stai inizio No No Non ti affaccia Non ti affaccia Non ti affaccia Raga la sinistra secondo me c'è qualcuno Perché loro sono in qua Ah no ok ok Qui stanno sti a tre lassù Sì 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 Lo sai che possiamo fare? C'è una cegrazione vicino No no lo sai possiamo fare? Sparate Tutti quanti dove sta Raga con il cecchino Quella parte Di sinistra C'è la parte no La parte tipo del Quell'angolino Ma chi sta sparando? No è l'angolino al mattone Ho capito ho capito ho capito Quello là Tra Quello là tra Sv e 240 Infatti State qua comunque State da State da State da State da Non è sceso Lei è caduto uno Rompete gli ebasi Ok basta 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 Non è sceso comunque Un è morto Sì un è caduto No no è morto No uno di loro C'è sono uno in meno Ora Che non so Spiegartelo Da dove da dove Da sopra Rompete l'albero qua C'è un troppo sopra Quale albero? Questo qua grande Ma se ci sta avvicinando Sì Non c'è più scusa Non c'è più No dai che culo però No la safe Mentre sei Non ha senso questa cosa però Eh no Cria assente il cazzo Che cazzo di spisa In due ore Aspetta Aspetta fammi entrare No ci ha pushato Ci ha pushato Dove sta ma che stanno? Stanno fuori Stanno fuori E' pushato Ce l'ha all'onno Grazie Che cura? Dai raga dai Vai Sta sopra ancora Sta ancora sopra bella 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 partita sta bella partita spero si è piaciuto ragazzi questa partita ci si vede al prossimo video su forte nitte bella